Mi chiamo Roberto Amalfi, ecco, io volevo fare questo video perché volevo raccontarvi che a volte quando sono fuori, all'aria aperta, sbaglio bloggare perché ci sono tante cose che sono messe insieme. Per poi devo anche creare qualcosa per quadrarmi e per registrare. Ecco, io spero che questo video sia bello e mi scuso per la mia voce.